Il caso Mensa arriva in Parlamento. Il capogruppo alla Camera di Area Popolare Nunzia De Girolam, infatti, dopo le ultime vicende, è intervenuta presentando un'interrogazione al Ministero della Salute e a quello del Lavoro, per conoscere le iniziative che intendono porre in essere per comprendere se esistono violazioni al capitolato d'appalto e, in generale, per garantire un ritorno alla situazione di normalità. L'Associazione Altra Benevento ha presentato in Consiglio Comunale una denuncia, si legge nell'interrogazione, in cui si accusa la ristorò di violazione di una serie di norme in materia igienica di sicurezza sul lavoro, nonché le norme sulla cassa integrazione e sul capitolato d'appalto. È stata inoltre denunciata, prosegue il testo, la carenza dei controlli sulla mensa scolastica da parte dell'ASL e del Comune. Una situazione che è stato sconcerto nell'opinione pubblica locale, soprattutto nei genitori dei bambini che usufruiscono del servizio mensa. Ed è proprio per questo, conclude la De Girolamo, che fare chiarezza è un dovere, non si può scherzare sulla salute dei bambini. Molte famiglie, per di più in difficoltà economica, sono spaventate e smarrite.